Cambio in vetta nel campionato di Serie C Silver Pugliese, nell'incrocio al vertice giocato al Palafion di Taranto, Anspis Santarita batte Virtus Molfetta per 70 a 67 e stacca gli avversari ottenendo così il primo posto solitario. In un incontro rimasto equilibrato sino al termine, Pole Kauskas, il miglior realizzatore con 26 punti, seguito dai 19 di Scozzaro e Perrucci per gli ospiti. Con gli Ionici schizzati a quota 28 a 26 piombano Manfredonia e Pallacanestro Molfetta che proseguono le rispettive serie positive con due successi casalinghi. La squadra di De Florio supera nuova cessistica barletta per 71 a 59 con oltre 40 punti complessivi del duo straniero Sarrucas-Bediranoglu. Il miglior marcatore è però Amorese con 26 punti fra gli ospiti che nel frattempo ingaggiano la guardia slovacca Musil vedendo partire Maselli ed Adersteg. Netta affermazione per i biancorossi molfettesi che piegano Adria Bari per 79 a 47 con 18 punti del sempreverde Maggi. Si rialza intanto Dinamo Brindisi, Corsara Foggia contro Diamond per 97 a 80 con 32 punti di Knepa e 23 di Sirena. Fra gli arancionieri di casa da segnalare invece Kralic e Coppola 21 punti a testa, sempre in lizza per un posto ai playoff a Pimonopoli invicta Brindisi anch'essi a punti sul campo amico. La squadra di Cazzorla piega Cusbari per 82 a 59 con 30 punti complessivi della coppia Lescott-Calabretto mentre i brindisini lasciano al palo Murgia-Santeramo con un perentorio 81 a 58. Nel prossimo turno capolista Anspi-Santarita-Taranto a Brindisi contro la Dinamo e Virtus Molfetta che riparte invece in casa da Apimonopoli. Pallacanestro Molfetta inoltre fa visita a Cusbari, Manfredonia a Santeramo contro Murgia mentre nuova cesistica Barletta ospita Diamond Foggia. Pallacanestro Murgia Pallacanestro Murgia Grazie a tutti.